Joe? Dove sei? Non riesco a vedere niente! A quanto pare la serata è iniziata. Secondo te, quali dovrei mettere? Vado per quelli viola, allora. Oh no! Spegni subito la macchina del fumo, Joe! L'ho appena spenta, tranquillo. C'è un incendio e le scale sono bloccate. Oh no! Chiamiamola squadra antincendio e soccorso. C'è un incendio alla trattoria del pesce intero e Bronwyn è intrappolata al piano superiore con i pantaloni da discoteca. Incendio alla trattoria del pesce intero e Bronwyn è intrappolata al piano superiore con i pantaloni da discoteca. Sam, va con Ellie su Jupiter, io vado con Elvis su Venus 2. Non preoccuparti, ti facciamo uscire subito da lì! Ellie, va a staccare la corretta e io affronto l'incendio principale. Ricevuto, Penny! Non preoccuparti, leone, sei al sicuro con me? Bene, vieni qui, Bronwyn, tocca a te! È completamente spento, Penny! Oh, ricevuto, Ellie! James Jones è disperso in montagna. Richiesto intervento della squadra di ricerca e soccorso. James Jones è disperso in montagna. Richiesto intervento della squadra di ricerca e soccorso. Io vado con Penny e Tom su Wallaby 2. Sam, tu seguici con l'ambulanza. Ricevuto, Ellen. Ricordati della gazzosa, Sam! Ricordati della gazzosa in latina! James! Dove sei finito? Oh, accidenti! Speriamo di trovarlo quanto prima. Il sole sta iniziando a tramontare. Aiuto! Aiuto! Sono qui sotto! Si sta facendo buio, Tom. Dobbiamo trovare James, subito! Ricevuto, Sam! Attivo immediatamente la scansione termica. Bingo! A quanto pare l'abbiamo trovato! Tieniti pronta a scendere, Ellen! Ricevuto, Tom! Non preoccuparti, James. Ti riporteremo a casa sano e salvo. Sei ferito? No! Non credo proprio. Tieniti forte, James. Adesso ti tiriamo fuori da qui. L'ho preso, Penny! Tiraci su! Ricevuto, Ellen! Rimani in posizione, Tom! Ciao, zio Sam! Non è ferito, Sam, ma guida comunque con prudenza. Per oggi ha già avuto un'esperienza abbastanza adrenalinica. Ricevuto, Ellen. E non preoccuparti, mi ricorderò anche della gazzosa. Spregati, Sara! Abbiamo un altro cliente! Sarò veloce come un fulmine! Oh, una pecora mi sta divorando! Sara! Attenta! Ti stai muovendo! Non riesco a raggiungere i pedali! Oh no! L'auto con Sara si sta muovendo! E sta andando dritta verso la spiaggia! Meglio chiamare la squadra di salvataggio. Sara Jones è intrappolata nell'auto dell'infermiera Flood e si sta muovendo verso la spiaggia. Sara Jones è intrappolata nell'auto dell'infermiera Flood e si sta muovendo verso la spiaggia! ... ... Sara, se riesci a sentirmi Prendi la radiotrasmittente Sara, riesci a sentirmi? Riesco a sentirti, zio Sam Forte e chiaro I soccorsi stanno arrivando, ma la marea sta salendo E devi rimanere al sicuro finché non... Ascolta attentamente, ti dirò tutto quello che devi fare Bene, ricevuto, zio Sam Ok, Sara, non appena avrai sganciato la cintura di sicurezza Abbassa il finestrino ed esci dalla macchina Ricordati, cintura, finestrino e fuori Ho capito, zio Sam Cintura, finestrino e fuori Cintura, finestrino Fuori Bravissima, Sara Non preoccuparti, Sara Ti tengo io Fantastico Elvis Una fiamma celeste fuori controllo Ha causato incendi nella casa dei flood e nell'area circostante Una fiamma celeste fuori controllo Ha causato incendi nella casa dei flood e nell'area circostante Penny, tu vai alla casa dei flood Noi gestiremo gli altri incendi Ma abbiamo bisogno che Saturn individui le zone colpite Ricevuto, Sam Espulsione di Saturn, ora Ci sono un paio di incendi nelle foreste nord orientali, Sam Ricevuto, Elvis Stiamo andando Laggiù Joe e Mike sono intrappolati dentro Ci pensiamo noi Andiamo ragazzi State ascobacciati e usciamo subito da qui Cerchiamo di spegnere questi incendi Voi due spegnete il fuoco principale prima che si diffonda Io mi occupo dei più piccoli Papà! Ehi! Oh papà! Ero così preoccupata Alla casa dei flood è tutto sistemato, Sam Qual è la vostra situazione? Qui abbiamo tutto sotto controllo, Penny Fuoco? Fuoco! Eppure non ci avevo messo il peperoncino No! Bella intendeva dire un vero fuoco Guardate! Meglio chiamare la caserma dei pompieri È scoppiato un incendio al parco di Ponti Pandi E tutte le pizze rischiano di finire bruciate È scoppiato un incendio al parco di Ponti Pandi E tutte le pizze rischiano di finire bruciate Non le pizze! Dobbiamo chiedervi di indietreggiare per la vostra sicurezza Vi ringrazio Ok squadra A quanto pare abbiamo un forno a legna e fiamme Una bomboletta del gas E per finire un microonde elettrico Io vado a scollegare il microonde E io raffredderò la bomboletta a gas Passiamo alla schiuma appiccicosa Ricevuto, Ellie L'incendio si espande Ci penso io, Sam Le nostre pizze! Fenalia, vieni qui! Sara, fermati! Dobbiamo uscire adesso! Mamma! Papà! Meglio chiamare la caserma dei pompieri C'è un incendio Alla trattoria del pesce intero E Sara è rimasta dentro a cercare tenalia C'è un incendio alla trattoria del pesce intero E Sara è rimasta dentro a cercare tenalia Devo chiedervi di indietreggiare per la vostra sicurezza Vi ringrazio Io vado a cercare Sara e tenalia Io penserò alle fiamme Non vedo né Sara né tenalia qui Vado a cercarli nel semitterrato Ricevuto, Sam Sara! Sara! Sono proprio qui, zio Sam Ah, Sara Dobbiamo uscire Ma non riesco a trovare tenalia Non preoccuparti, Sara Lo troveremo Ma prima devo assolutamente portarti via di qui L'incendio è spento, Sam Non ho trovato tenalia da nessuna parte Che cosa c'è, Bella? Va, fammi vedere Perché stanno usando il giocattolo di tenalia? Perché lo sta andando a cercare per te E' spaventato dal fumo dell'incendio Guida la radar! Brava, così, seguilo! Ma che bella squadra! Urra! Che bravi cani! Oh, che succede? Oh, no! Trevor! Sante! Dillis Credo sia meglio che tu chiami la caserma dei pompieri Il supermercato è in fiamme E Trevor, il mio eroe È intrappolato all'interno insieme a mezza tonnellata di piselli surgelati Io ho salvato il piede di Dolly Il supermercato è in fiamme Trevor, il mio eroe E voglio dire, l'eroe di Dillis È intrappolato all'interno insieme a mezza tonnellata di piselli surgelati Coraggio cadetti! Li seguiremo nel nostro minibus In questo modo potrete vedere la squadra in azione Andiamo! Una vera emergenza! Sam, tu stacca la corrente mentre io penso alle fiamme Io vado a cercare Trevor Ok, Penny, via libera Non riesco a trovare Trevor! Il fumo è troppo denso, non vedo niente Sam, dà una mano a Elvis mentre Penny spegne il resto delle fiamme Vado subito, Ellie Trevor! 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 Riesci a sentirci? Sam, va di sopra nella stanza di Norman Vedo muoversi qualcosa Precevuto, Ellie Quanto ossigeno mi resta? Sei coperto, Sam Il tuo ossigeno è al 68% Quindi fai pure con calma e senza fretta L'ho trovato, Ellie Trevor, resta giù e spostati verso di me D'accordo, Sam E adesso ti porto via da qui Ah Oh cielo Io temo proprio che ci siamo persi Qui non c'è traccia di loro Meglio chiamare la polizia Siamo pari Ancora non sappiamo chi andrà in elicottero alla festa Ah I pionieri sono dispersi nella foresta Dobbiamo avviare subito una missione di ricerca e soccorso I pionieri sono dispersi nella foresta Dobbiamo avviare subito una missione di ricerca e soccorso Quella foresta è troppo fitta per attraversarla con Venus o Aydrus Ed è troppo lontana, piedi Allora, come raggiungiamo la zona di ricerca prima che faccia notte? Beh, in realtà un modo ci sarebbe Questo non è proprio il viaggio in elicottero che mi ero immaginato Non preoccupatevi ragazzi Cercherò di andare piano e con molta prudenza Ricevuto, sergente E avviseremo se ci saranno troppe turbulenze Non abbiate paura Non devo fare altro che salire sull'albero più alto Per capire esattamente dove siamo Mi dispiace Norman, ma credo che mi sembi... Tieni Ci siamo allora Tutto a posto, sergente Ravani Ricevuto, Sam Io sarò i vostri occhi dal cielo mentre voi controllate a terra Fa molta attenzione, nonno! Non ti preoccupare, un vecchio pioniere non perde mai la sua presa Oh cielo Ci stiamo avvicinando Questa è la voce di Sarah Ehi, dov'è Garrett? Garrett, va tutto bene? Al momento sono un pochino in difficoltà, Sam Sta calmo, vengo subito a prenderti Abbiamo trovato Garrett e ragazzi, ma... Ci serviranno rinforzi via aerea Ricevuto Tirami su! Vuoi un passaggio a terra, Garrett? Certamente, Sam Sì! Ha schiacciato il mio pranzo! Sì, sergente Ravani Dietro di lei? Oh, ma tu guarda! Joe e Anna si dirigono in mare aperto Su una mongolfiera con motore a reazione Joe e Anna si dirigono in mare aperto Su una mongolfiera con motore a reazione Sargente Ravani Sargente Ravani, riesci a vedere dove sono? No, Sam Andavamo troppo veloci Andrò verso il mare aperto e controllerò la zona Pronto a fornire supporto dall'uola B2 Sargente Ravani Si diriga in direzione sud E Tom Tu cerca verso nord Ricevuto, capitano Spill Tieni di forte, Anna! Abbandonati la mongolfiera! Contatto visivo ottenuto Trasmetto subito le coordinate Scendo a prendermi Aggrappatevi a questa corda Ben, porta Titan sull'isola di Pontipandi in fretta O ci ritroveremo a gestire un incendio enorme Sto andando Ma non c'è nessuno con me che possa attivare i cannoni ad acqua Lascia fare un B Credo di avere il pompiere che fa al caso nostro Scendo a prendermi Mendy Norman e Sara Bloccati sulla collina Rocce che cadono Serve aiuto Oh no! Meglio chiamare la squadra di soccorso Mendy, Norman e Sara Sono intrappolati su una collina Che sta franando vicino al centro alpino Serviranno dei porti, Sam Vengo a prendervi con Idrus Ci vediamo lì Ci vediamo lì Oh, bello! State calmi e restate dove siete, ragazzi Stiamo arrivando Ok, Sara Adesso assicurerò la mia corda alla roccia E ora Ti stringerò questa fascia intorno al corpo Ok, Norman La corda è assicurata Adesso ti calerò di sotto Sei pronto? Uh-huh Mendy Il burrone è troppo ampio Devo trovare un altro modo per raggiungerti Resisti, Sam Veniamo ad aiutarti Chilo! Forza, Kilo Proviamo per di qua Sam Afferra questa Preparati, Mendy Attraverserò il pendio Siamo pronti, Sergente Ravani Chilo Da questa parte Grazie mille, Sergente E grazie anche a te, Kilo James Jones è stato trascinato via su una tavola da SAP È stato visto dirigersi verso il mare Andiamo, Penny Forza, ragazzi Venite con me Potrete vedere la squadra in azione Da quassù Godrete di una vista fantastica Non sarà certo migliore del museo dei... Beh, immagino che non sarà poi così male Wow, hanno preso anche Titan È davvero strepitoso Oh, c'è anche l'elicottero della polizia Questo è il tour più grandioso di tutti Oh no La tavola si sta sconfiando Non affondare ancora Ce l'ho fatta Ma ora sono bloccato Non mi piace essere bloccato Sono qui Ehi voi Da questa parte Scusami, uccellino Ti ho chiesto scusa Ho capito Stai proteggendo il tuo nido Non preoccuparti Me ne starò da questo lato Però devo far sapere in qualche modo alla squadra di soccorso dove sono Aspetta un secondo Ok, adesso dividiamoci Dobbiamo estendere l'area di ricerca Nessuna traccia di loro, Penny Niente anche da quassù È un'area così immensa Ehi Sono qui Da questa parte Da questa parte Un momento Vedo qualcosa Che cosa vedi, sergente? L'ho trovato È James Ma non posso atterrare per portarlo in salvo È la stagione di nidificazione Non voglio disturbare gli uccelli Sam, puoi andare tu Neptune non può arrivare laggiù Ricevuto, Penny Juno ha il mezzo ideale Zio Sam Avvicinati James Fa attenzione, Zio Sam Qui c'è un cello molto arrabbiato Non preoccuparti, James Ti porteremo via da qui in un batter d'occhio Così lei potrà avere l'isola tutta per sé Tieniti forte, James Preso! Bronwyn! Signora Chen! Cos'era per tutti i grizzly? Fuoco! Fuoco? Te lo dicevo che c'era un drago Non si tratta di un drago Hanno fatto cadere le candele D'accordo, restate tutti uniti Meglio chiamare la caserma dei pompieri La bestia della montagna di Ponti Pandi Ha fatto cadere due candele alle alghe E ha piccato un incendio nel bosco La bestia della montagna di Ponti Pandi Ha fatto cadere due candele alle alghe E ha piccato un incendio nel bosco Beh, chi se lo aspettava? Dobbiamo andare subito ad aiutarli Andate da quella parte Sto arrivando C'è anche Bessie Mettetevi tutti al riparo Ellie, Penny Prendete le pompe a zaino Ricevuto, Sam Ricevuto, Sam Voi state indietro È in arrivo una bella secchiata d'acqua Quello sì che è un bel secchio grosso No, aspetta un momento Ma quello è proprio il cappello di tua zia Phyllis Non è vero Questo è... è un cappello da pirata Piano, Breeze Anna! Mamma! Oh, Breeze Mi è caduto il panino Ops Sarà meglio chiamare la squadra di soccorso Il fantasma di Ponti Pandi Pit Ha spaventato un cavallo E ora sta trasportando un carro a tutta velocità Con dei passeggeri a bordo Ah, questa non l'avevo mai sentita Oh, adesso ti allaccio al tuo nuovo sedile, Radar Meglio non mettere la sirena, Elvis Non vogliamo spaventare di più il cavallo Sam, Lizzie Penso che avremo bisogno di rinforzi Ricevuto, Elvis Vi raggiungerò più in fretta possibile Sto arrivando anch'io Rallenta, Breeze! Rallenta! Quel cavallo l'ha fermato! Oh no, Penny Come faremo a salvarli senza spaventare ancora di più il cavallo? Non lo so davvero, Elvis Che cosa c'è, Radar? Ho l'impressione che voglia uscire Radar! Speriamo che non spaventi il cavallo Non preoccuparti, Penny Radar e Prince si conoscono fin da cuccioni Sicuramente non lo spaventerà Scusateci! Oh, sta imitando quello che facevano i cani delle caserme tanto tempo fa Ovvero badare ai cavalli Sta tenendo il suo stesso passo e lo sta rallentando State bene voi due? Sì, ti ringrazio, Penny Sì, Radar ci ha salvato la vita La barca di Charlie sta affondando nei pressi del faro E c'è un uomo in mare La barca di Charlie sta affondando nei pressi del faro E c'è un uomo in mare Sto arrivando Ellie, puoi venire ad aiutare Jody con lo scafo mentre salviamo Charlie e Mike? Ricevuto, Sam! Di alla mia sorellina che sto arrivando Tenetevi forte, ragazzi Questo significa che è finita la ricerca della razza amagulata Eccoli laggiù Mike, non ti muovere, stiamo arrivando Proviamo a prenderti Non posso avvicinarmi, Sam Ci sono degli scagli sotto l'acqua Ti ho richiesto un elicotero Sono pronto, Tom Vado a prendere Charlie Oh, è un piacere vederti, Sam Il piacere è tutto mio, Mike Tiraci su, Tom La tengo ferma, Sam Grazie, Tom Oh no, dobbiamo allontanarci Se il Submaster si ricoprisse di olio appiccicoso non riusciremmo più a pulirlo Fermi! Il vostro motore sta andando a fuoco! L'olio si espante verso di noi! Oh no, il motore ha perso potenza Non possiamo muoverci Meglio chiamare la squadra di soccorso Oh, guardate come l'ha ridotta La mia povera pantofola Non è più la pantofola di prima, signore C'è una piazza d'olio in fiamme vicino l'isola di Pontipandi E il professor Peoples e il suo gruppo sono in pericolo C'è una piazza d'olio in fiamme vicino l'isola di Pontipandi E il professor Peoples e il suo gruppo sono in pericolo Questa era tosta da dire Oh, a quanto pare avrete bisogno di Titan, Neptune e Juno oggi, Sam Ci servirà il separatore d'olio Vado a prenderlo Non possiamo andare da nessuna parte Ma la piazza d'olio si sta ancora espandendo Si sta muovendo verso di noi E oggi ho messo il mio papillon preferito E anche le creature marine sono in pericolo Oh cielo, oh cielo, oh cielo Come prima cosa, agganciamo Neptune al sottomarino e portiamolo al sicuro Ricevuto, Sam Dobbiamo posizionare le barriere di contenimento Ricevuto, Penny Adesso entro in scena io Accerchiamo per bene quella piazza d'olio Ora possiamo andare via, papà Un lavoro eccellente, squadra E il separatore d'olio pulirà ogni traccia di schiuma e olio rimaste Le creature marine non correranno rischi Oh no Ho trovato Sei forte, Anna Oh no Qualcuno ha in serio pericolo in mare Meglio chiamare la squadra di soccorso Un momento Voi siete la squadra di soccorso È la barca di Charlie A quanto pare è stata spinta da una risacca Anna e Jody, oggi sono in mare Meglio contattare Ben Jody e Anna Sono state risucchiate da una forte risacca vicino agli scogli a Picco Ponti Pandi Jody e Anna sono state risucchiate da una forte risacca vicino agli scogli a Picco Ponti Pandi Sam, Ellie, ci stiamo muovendo Vi vengo a prendere sotto la scogliera Ricevuto, Penny Benvenuti a bordo Ellie, tu sali su Titan Ricevuto, Sam Questi scogli sono troppo ravvicinati Non credo di riuscire ad avvicinarmi con Titan Nessun problema, questo è un lavoro per Neptune, assicuratevi che Anna stia bene Ricevuto, Penny Anna Afferra questa Oh, Ellie, non sai quanto è bello vederti Anche per me è bello vederti, Anna Jody, sta bene? Lo spero tanto Jody, prova ad allontanarti da quegli scogli Stiamo venendo a prenderti Ci siamo quasi, Penny Aggrappati a me Grazie, ragazzi Giusto in tempo da quello che ho appena visto Meglio chiamare la squadra di soccorso alpino Penaglia il cane E Wally la pecora Sono bloccati su una sporgenza rocciosa sulle montagne Sì! A me sembra che sia un pareggio Tenaglia il cane e Wally la pecora Sono bloccati su una sporgenza rocciosa sulle montagne Ricevuto, Arnold Ci mettiamo in marcia Lizzie, noi andiamo avanti Ci vediamo in cima Ricevuto, Sam Credo di aver visto la sporgenza oscillare un po' Questo rumore sembra Oh, sì! La squadra di soccorso alpino è qui Va tutto bene, Tenaglia Va tutto bene, Wally Sam, Ellie ed Elvis Vi porteranno in salvo in men che non si dica Sembra troppo ripido per scendere in sicurezza, Sam Hai ragione, Elvis Ellie, dobbiamo calarci da loro con la corda Prendo l'imbracatura E io attivo subito l'argano di Phoenix Piano, piano voi due Beh, pare proprio che vi siate ficcate in un bel pasticcio, non è così? Adesso vi metterò addosso una cosetta, d'accordo? D'accordo, Elvis Siamo pronti? Ottimo lavoro, ragazzi Gli darò un'occhiata per assicurarmi che stiano bene Stazione di controllo a infermiera Froome Il capitano Steele è stato dato per disperso C'è bisogno di lei nel bosco Ricevuto, sto arrivando Un momento, ma sei tu, James? Sì, e puoi chiamarmi viceagente James? Trovata! Venite voi due È meglio che non ci separiamo più d'ora in poi Pronti a lanciare Saturn? Ricevuto, Sam Ci divideremo e perlustreremo la zona Niente telefono Niente cibo Niente comodità casalinghe Sembra che dovrò passare una notte solitaria nella foresta Che cosa? Ecco dov'era, signore L'ho trovato Ottimo lavoro, Sam Inviaci subito le coordinate Ricevuto, Elvis Per tutti i tubi aggrovigliati Un salvataggio Ne serve un passaggio, Capitano Steele? A quanto pare si è stirato un muscolo, Capitano Steele Si riprenderà tra qualche giorno La prossima volta, signore La prego di seguire il sentiero Non sapevamo dove fosse Non stava cercando di prendere una scorciatoia, vero, signore? Beh, era solo una piccola scorciatoia Di certo non lo farò un'altra volta Ci fa piacere sentirlo Bene Il professore rimanga esattamente dov'è Cercheremo aiuto Coraggio, pionieri Sbrigatevi I razzi di segnalazione sono qui dentro Voi due restate lontane A distanza di sicurezza Pronte? Pronte! Copritevi gli occhi È ora di allertare la squadra di soccorso in mare Un razzo di segnalazione è stato avvistato sull'isola di Ponti Panti Qualcuno è in pericolo Un razzo di segnalazione è stato avvistato sull'isola di Ponti Panti Qualcuno è in pericolo Coraggio, Penny Dobbiamo andare Fortuna che Titan ha passato il test Ho appena avvistato Trevor e i pionieri sulla spiaggia Io e Penny ci dirigiamo lì Ben, tu controlla la scogliera Ricevuto Sam Ha trovato il professor Pickles È bloccato a metà altezza su una scogliera poco più a nord della spiaggia Stiamo arrivando, Ben Resti fermo dove si trova, professor Pickles Stanno arrivando i soccorsi Non credo che riuscirò a reggere ancora per molto Scommetto che i nostri antenati di Ponti Panti non restavano boccati così Professore Stia calmo Non le succederà niente Sono arrivati i soccorsi Andiamo Ricevuto, Penny Grazie al cielo oggi non siamo più nei tempi antichi All'epoca non potevano certo compiere salvataggi come questi Bene E adesso la portiamo giù Grazie al cielo È stata un'esperienza spaventosa Un professore salvato Fatto Sara, guarda Mamma, gli animali! Meglio chiamare la caserma dei pompieri Il centro veterinario sta andando a fuoco E gli animali sono intrappolati all'interno Grazie a tutti Forza ragazzi, restate tutti indietro Ma gli animali staranno bene? Non preoccuparti La squadra dei pompieri è qui Faranno uscire gli animali in sicurezza Elvis, l'incendio si espande Dobbiamo far uscire gli animali in fretta Ricevuto, Sam Radar, Kilo, Ombra Ho bisogno del vostro aiuto La staccionata è bloccata Kilo, aprila Ombra, raduna le pecore Kilo, va! Radar, dobbiamo assicurarci che non ci siano altri animali rimasti intrappolati Pronto? Va a vedere Via libera! Tutti gli animali sono andati via! E anche l'incendio Trevor! Aiuto! Trevor, cerca di nuotare fino alla riva Non ci riesce La corrente del fiume è troppo forte Lo sta portando dritto, dritto alla cascata Dobbiamo chiamare la caserma dei pompieri Trevor Evans è finito nel fiume durante la corsa col cerchio e va verso la cascata Trevor Evans è finito nel fiume durante la corsa col cerchio e va verso la cascata Aiuto! Aiuto! Oh, è lì! 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 Afferra questo, Trevor! Reggiti forte! Oh, è lì! Va tutto bene, Trevor! Sei salvo adesso! Oh! Vai! Oh, no! Il fuoco! Meglio chiamare la caserma dei pompieri Non preoccuparti Abbiamo un secchio pieno d'acqua Eh, penso che chiamerò lo stesso la caserma dei pompieri Gli uomini selvaggi di Pontipandi si sono fatti raggirare dalla volpe di nuovo E hanno innescato un incendio boschivo Non mi piacciono le gare a tre piedi Gli uomini selvaggi di Pontipandi si sono fatti raggirare dalla volpe di nuovo E hanno innescato un incendio boschivo Scusate, cadetti, dobbiamo andare verso l'incendio Aspettate! Fermi! Questo vuol dire che è un pareggio Svelti! Azionate le manichette svelti! Non ho imparato proprio niente dalla corsa a tre piedi, Norman Troppa fretta, meno velocità E soprattutto lavoro di squadra Cadetti, rimanete a distanza di sicurezza insieme a me Bene, squadra Io prenderò Venus 2 Andrò ai confini dell'incendio E lo arginerò con della schiuma appiccicosa Arnold e Sam Occupatevi delle fiamme più grandi Con le manichette di Jupiter E tu Elvis Occupati delle fiamme più piccole Con una vanga flessibile D'accordo Wow! Guardate che bravi! Una vera squadra! Hai ragione! Una vera squadra! Aiuto! Credo sia meglio chiamare la squadra di soccorso Ottimo lavoro, ragazze Vincerete di sicuro con uno di quegli scatti La signora Chen è sopra una tavola a vela impazzita Diretta verso il mare E non riesce a fermarsi La signora Chen è sopra una tavola a vela impazzita Diretta verso il mare E non riesce a fermarsi La signora Chen è sopra una tavola a vela impazzita Scusate! Fatela fermare! Venga duro signora Chen Ci siamo quasi Fate presto! Tieni la ferma, Ely! Ricevuto, Sam! Non si preoccupi, signora Chen È salva adesso Mi dispiace tanto Ero così presa a cercare di scattare la mia foto vincente Che non ho pensato alle norme di sicurezza Dovrebbe fare sempre attenzione Quando è vicino l'acqua, signora Chen Specie se sta usando un equipaggiamento che non ha mai usato Aiutovi prego Siamo rimasti bloccati su un'isola deserta sul mare Norman Price Norman Price? PS Portate anche delle gassose Qualcuno ha visto Lili o i ragazzi? Oh no Norman e gli altri saranno bloccati su una di quelle isole Chiamo la squadra di soccorso I ragazzi sono bloccati su una delle isole sulle piane di marea E la marea si sta alzando I ragazzi sono bloccati su una delle isole sulle piane di marea E la marea si sta alzando Grazie, Penny Bene, Ely Questo sembra un lavoro per l'overcraft Ricevuto, Sam! Riesci già a vederli, Sam? Non ancora, Ely Ah, eccoli laggiù, Ely E avviciniamoci lentamente ora Ci hanno salvati! Ok, ragazzi, state calmi Un momento, dov'è Norman? Eccomi, sono qua giù! Mi sono ferito il ginocchio! Non riesce a muoversi D'accordo, Ely L'alta marea si sta avvicinando Dobbiamo portare qui Ellen in fretta Non preoccuparti Norman Ti porteremo subito via di qui Ok, diamo un'occhiata a questo ginocchio Norman Lili! Che ne è stato di Norman? Lui sta bene? È solo una distorsione Tornerai come nuovo tra qualche settimana Grazie mille, infermiera Flood Portaci su, Tom! Ciao! 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 Ciao!